Sopra il luogo a Campo dei Fiori per vedere come procede la raccolta differenziata. Qui chiaramente questa è una zona estremamente complessa perché abbiamo una realtà come quella del mercato che convive con esercizi di ristorazione e che convive con residenti. Allora oggi siamo venuti a vedere come stanno risolvendo. Innanzitutto c'è un nuovo sistema che ha coinvolto sia la ditta che fa la raccolta differenziata sia gli operatori. La ditta ha consegnato i sacchi per la differenziata, gli operatori iniziano a spazzare le loro postazioni quando chiudono, quando smontano, loro passano con più frequenza per ritirare i rifiuti. A fine giornata le cassette che non vengono riutilizzate vengono accatastate in file ordinate. Insomma noi continueremo a controllare perché tutto questo diventi un sistema chiaramente che funziona. Allo stesso tempo dobbiamo lavorare meglio anche con le utenze domestiche affinché non si verifichino quei fenomeni per cui magari residenti o qualche soggiornante prenda e butti le cose insieme ai rifiuti degli operatori del mercato.